Ehi, salve, grazie di essere qui. Spero siate bene. Dovremmo sapere che le montagne di altopiani non sono formazioni rocciose, ma ceppi di giganteschi alberi che sono stati tagliati. Erano a base di silice, non a base di carbonio come gli alberi che vediamo oggi. Guardate il video Non esistono foreste sulla Terra, se non avete ancora esplorato questo argomento. Silicon Valley è il luogo dove impongono tutta la tecnologia oggigiorno ed ha preso il nome dal silice perché è ottimo per immagazzinare e processare informazioni. I chip dei computer sono costruiti dalle silice e questo è il motivo per cui sono in grado di contenere così tante informazioni. Il quartio è un silicato fatto di silice puro e molti cristalli sono usati per guarire in tanti circoli New Age al giorno d'oggi. Si tratta di varianti di quartio. Il quartio puro è conosciuto come il maestro guaritore in grado di sbloccare abilità psicologiche. Oltre a quello che siamo in grado di andare ad indagare riguardo cristalli, si tratta dei resti di questi giganteschi alberi a base di silice. In Avatar di James Cameron, dove si vede la storia di un passato non così lontano, i nativi comunicavano con questi spettacolari alberi che fornivano informazioni divine. Immaginate che informazioni può contenere un albero fatto di silice. Tutti questi alberi si estendono dagli alberi della vita al centro del nostro piano attraverso un sistema molto vasto di radici. Era un gigantesco organismo. Quello che crediamo sia un sistema di cave è un antico sistema di radici. Questi alberi erano enormi, così come le loro radici. Se mettiamo accanto una radice a base di carbonio e di un sistema di cavi, sono molto simili. Le radici di un albero a base di silice, gemme e cristalli abbondano nelle cave. Da quanto sappiamo, gli alberi hanno un complesso sistema di radici e sono in grado di comunicare uno con l'altro. Gli alberi sono in grado di trasportare di ossido di carbonio, acqua ed altre informazioni nascoste che non siamo in grado di percepire con questi sensi attraverso il loro sistema di radici. Se non siete mai stati in una stanza con tantissimi grandi quarzi, ametisti eccetera, saprete che energia c'è e che potente. I cristalli sono conosciuti perché immagazzinano informazioni. Questo è il motivo per cui molte volte richiedono pulizia energetica. Immaginate che tipo di informazione e di energia poteva circolare attraverso questo sistema mondiale di alberi, composto dallo stesso materiale. Ci hanno raccontato che il quarzo è un minerale formato da roccia, questo non ha senso, pensatevi. Come può essere che una cava sia formata naturalmente nel terreno? Ci hanno fornito una stupida risposta che è stato il calcare, che nel tempo si è risolto formando le cave. Nuovamente questo sistema è totalmente simile al sistema di radici. Molti fiumi sono pieni di queste radici. I fiumi contengono le radici sopra terra, mentre le cave, in parte, contengono le radici del sottosuolo. E questa è una speculazione. Osservate questa foto di questo gigantesco cristallo all'interno di un sistema di cave. È insano. Credo che tutto questo gigantesco sistema di radici che contiene così tanti cristalli è stato spogliato. Ed ora è senza vita. Quello che voglio dire, guardate alcune delle cave senza cristalli. Sembrano denudate e sembrano morte. Gli alberi sradicati mostrano radici di varie grandezze che penzolano dal basso. Stalattiti e stalagmiti sono molto simili a queste. Ricordatevi che questi alberi erano enormi e vasti, fatti di materia spessa. Qualcuno ha raccolto questi minerali e questi cristalli. Nel bosco pietrificato c'è sabbia e nel bosco pietrificato è fatto di gemme preziose con struttura cristallina. Se confrontiamo questo bosco col pavimento o con i fianchi delle montagne vediamo gli stessi motivi, gli stessi schemi. I pezzi di questo bosco pietrificato sono pezzi di antichi alberi. In quest'area nell'entroterra con una grande quantità di sabbia nel deserto dove non esiste alcun accesso con l'oceano. Quindi questa sabbia da dove arriva? Di che cosa è fatta questa sabbia? La sabbia nei luoghi all'interno è composta principalmente di silice ed altri materiali, incluse forme di quarzo. Quando un albero viene tagliato la segatura vola ed inizia a coprire il terreno. Credo abbiate capito quello che intendo dire. La sabbia nell'entroterra e nei deserti non si è formata naturalmente ma è fatta di silice ed altri organismi che sono volati via mentre venivano tagliati. Vlad Henningegg ha sottolineato che alcune ceramiche tolteche indicano che questo viene rappresentato in quest'arte sono coccodrille ma gli escavatori di cavi possono essere usati per sbarazzarsi di questi alberi. Li usano oggigiorno. Queste antiche popolazioni probabilmente hanno visto queste mostruosità ritenendo che si trattasse di animali anziché tecnologie costruite dall'uomo. Il monte Meru è la montagna magnetica che giace al centro del nostro piano nell'Artico. La pianta della vita dove si considerava stesse al centro è stata tagliata. Quello che sappiamo è che le montagne sono ceppi di alberi. Si dice che l'albero della vita era incassato sul monte Meru ma ipotizzo che il monte Meru è la rimanenza dell'albero della vita. In questa rappresentazione buddista si vede un vortice sotto la montagna che rappresenta il vortice di quando entriamo nel centro. In questo pezzo d'arte del monte Meru della dinastia Yang onestamente non possono notare quanto sia simile al sacro Graal dove una volta bevuto dai sottengo la vita eterna e la felicità. Il sacro Graal come sappiamo è un'allegoria del centro del nostro piano. Osserviamo l'albero del nord Yggdrasil. Guardate questo pezzo. Al posto dell'albero c'è una montagna ma ci sono ancora le radici nella parte sottostante. Questo mi dice che il monte Meru era l'albero della vita. Nella mappa Iperborea c'è una montagna posta al centro e ci sono quattro fiumi che scorrono da lì. In questo sigillo fenicio che rappresenta il monte Meru vediamo quattro ruscelli che si espandono fuori. Questo disegno navajo, via sabbia, rappresenta sempre i quattro fiumi e per la X c'è un punto. Ci sono anche quattro montagne che circondano quello che noi sappiamo è il monte Meru. Queste quattro montagne si vedono in molte raffigurazioni. Questo è un dipinto hindù dove vediamo i quattro fiumi che convergono al centro. Si dice che anche il giardino dell'Eden aveva quattro fiumi. Voglio citarvi che esistono molte di queste raffigurazioni con il monte Meru e l'albero della vita. Esistono referenze del mondo sottostante. Il mondo sottostante è dove desideriamo andare. Loro cercano di confonderci, nascondeggiarci che il paradiso si trova in alto e l'inferno sotto i nostri piedi. Questo è il contrario della verità. Noi vogliamo scendere là sotto e dove troveremo il paradiso. Dobbiamo ancora andare là per uscire da questa matrice dentro alla terra del paradiso. Platone ha descritto Atlantide a forma di albero con cerchi concentrici divisi dall'acqua. Una forma come gli occhi di bue. Si dice che il monte Meru è una montagna invisibile. René Dumal, uno scrittore francese, ha scritto una novella incompiuta nel 1952 dove il personaggio teorizzava che il monte Meru era chiamato Monte Analogico. È reale e si trova in uno dei poli. Nel libro chiamava il monte la porta verso l'invisibile. Uno dei personaggi diceva che lo stesso monte era invisibile perché fatto di materia così densa che piegava la luce. Questo è considerato un lavoro di narrativa ma rivela veramente molte cose riguardo il monte Meru. Il sottofondo di questo territorio è composto di materiale che ha la proprietà di indurre una curvatura in modo che la regione venga racchiusa in un involucro di spazio curvato. L'autore forniva questa illustrazione accompagnata da queste parole. Il personaggio spiega che si tratta di un'illusione ottica che non permette di notare la montagna e piegherà in modo naturale attorno al campo forzato di spazio curvato. Dice, la struttura della curvatura che circonda l'isola non è assolutamente impenetrabile o perlomeno non sempre, non dovunque e non per tutti. In qualche momento ed in qualche posto alcune persone, coloro che sanno e che desiderano fare questo, possono entrare. Questo mi dice che dobbiamo vibrare ad una sufficiente frequenza alta per far sì che questa montagna e l'area che la circonda sia visibile. È come la spada fiammeggiante che è stata posta a guardia dell'Eden e Denda nella mitodologia norvegese che protegge il ponte verso Asgard. Esiste un campo di forza attorno alla montagna che ci permette di entrare solo se abbiamo intenti puri e cuore centrato. Nel frattempo il nostro intento sarà creare un paradiso qui sulla Terra. Pensate solo col cuore e continuate a lavorare connessi con l'energia della Terra, osservando il Sole e tutto il resto. Siamo in grado di comunicare col Sole, parlare di nostri intenti e nello stesso tempo con l'energia divina femminile che filtra attraverso la pianta dei nostri piedi con la Terra. Quando chiediamo per la direzione e l'aiuto di essere colmi d'amore, di conoscenza e saggezza dell'età, la riceviamo. Chiedi e ti sarà dato. Presto andremo a bere dalla Coppa del Sacro Graal, entreremo nell'Iperborea, il Giardino dell'Eden, Atlantide, Shambhala o come volete chiamarla. Per chi non ha ancora cercato Blood Over Intent, mettete il vostro sangue vicino al nostro per iniziare a togliere i paraocchi che questa matrice ci ha posto. Consultate e leggete e quando sarete pronti versate il sangue sul vostro intento divino accanto all'arresto di noi. Saremo tutti fratelli e sorelle di sangue nel nostro viaggio verso il Monte Meru. Spero siate bene tutti, state centrati, voglio bene a tutti.